Pane Frateria, la trattoria del pane è anche a Sassari. Al centro della città la semplicità dell'antico pane fratau fatto in tutti i gusti. Zuppa gallurese, sugisadu, dolci a base di ricotta e pane carasau, le delizie dove il pane è protagonista. Ti aspettiamo a pranzo e a cena. La pane frateria è in via Carlo Alberto II, angolo con piazza d'Italia.